Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video e sì, anche quest'anno sono stato al Pride se avete visto i video degli anni scorsi sapete che per me è una giornata con un po' dei mixed feelings perché è una giornata molto stressante da un punto di vista ornotologico, cosa sto dicendo? da un punto di vista emozionale perché sapete che la Corea non è molto aperta a livello mentale soprattutto quando si parla di relazioni omosessuose e quindi cosa succede? ogni anno al Pride ci sono due manifestazioni fondamentalmente il Pride principale che è fatto all'interno di questo parco insomma protetto e santificato dove accadono cose belle e frizzicarelle e poi all'esterno del parco c'è un'altra manifestazione fatta da persone che si definiscono cristiani ma secondo me fondamentalmente sono solamente persone un pochino sfuse mentali perché io penso e sono sicuro che tra i cristiani ci sono persone intelligenti comunque queste persone che si definiscono cristiani sono contro appunto il Pride, contro le stesse couple, same marriage, persone stanno fuori e veramente manifestano e tarellano dentro come se fosse un tomorrow e creano disagi, un sacco di odio, di faide, di robe quindi andare al Pride è veramente un po' come andare in guerra io ci vado allo stesso perché comunque bisogna battersi e farsi valere per le cose in cui si crede però insomma non è facile e vedrete insomma dalle cose che vi racconterò e dalle clip che ho fatto che insomma è un pochino pesante incominciamo incominciamo allora io sono andato con una mia amica che si chiama Apple proprio Mela, bellissimo nome lei è coreana ma non è mai stata a un Pride quindi insomma mi sembrava giusto portarla al suo primo Pride per fargli vedere anche un po' la verità, la truth about il suo paese giustamente lei era molto curiosa e ha detto va bene andiamo siamo andati a mangiare e quindi andando al Pride dal posto in cui eravamo non siamo riusciti ad entrare dalla via insomma ufficiale ed è stato già un A in cubo ragazzi perché quella via era piena di persone che protestavano quindi si erano messe ai lati della via ok quindi le persone che andavano al Pride camminavano in mezzo e ai lati c'erano questi insomma cristiani chiamateli come volete che abbattavano dei insulti fondamentalmente una proprio bellezza utile, proprio bello entrare al Pride così con gioia e positività quindi niente siamo entrati tra l'altro c'era la sigla di Star Wars tipo po 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 che dava proprio un feeling ancora più credibile a quello che stava accadendo perché in effetti ti sentivi come se stessi andando in guerra in quel momento incominciamo benissimo questo cartello che dice l'omosessualità è un peccato torna da Gesù Cristo va bene per entrare al Pride dovete passare da questo corridoio pieno di persone che sono contro il Pride ma che c***o mi sento un po' come in Star Wars effettivamente sto passando in mezzo ai nemici ragazzi mi ammazzano comunque insomma siamo riusciti a entrare con non poca ansia tra l'altro c'erano anche ragazzi delle vecchie un gruppo di vecchie con dei tamburi che erano contro il Pride che stavano veramente protestando con un'energia con una foga che neanche io se andassi alla sagra della pannocchia sarei così eccitato comunque alla fine siamo riusciti a entrare e finalmente siamo entrati in questo appunto parco in questo pezzo di terra che fortunatamente era ben protetto dalla polizia e quello era un posto felice colorato frizzicarello e pieno di gente insomma allegra che si stava divertendo non solo sono stato molto molto moltissimo felice di vedere che c'era molta molta più gente rispetto agli anni passati diciamo che ogni anno aumenta sempre di più in Corea non è che ci sono leggi contro gli omosessuali o niente semplicemente l'omosessualità non è proprio presa in considerazione quindi ancora non esiste quindi se questo numero continua a aumentare insomma magari un giorno il governo si sveglierà e capirà che magari qualche leggina andrà fatta devo dire che c'era qualche piccola faida anche all'interno del Pride ma molto piccolosa insomma diciamo che magari in alcuni angoli esterni c'erano delle persone all'interno del Pride che rispondevano alle persone fuori che protestavano e insultavano l'unica cosa è che il sole ragazzi c'era un sole patello che ti scioglieva l'anima e con tutta quella gente in quello spazio ristretto perché alla fine sì c'era tanta gente ma il problema principale è che lo spazio che c'è lì effettivamente è poco insomma era veramente abbastanza impossibile stare lì per più di dieci minuti senza sciogliersi e colare e integrarsi col pavimento quindi dopo circa un quarto d'ora siamo dovuti uscire io e Apple ed è stata l'idea peggiore dell'anno perché cosa abbiamo fatto? siamo stati a un Dunkin' Donuts che era fuori dal Pride quindi dall'area del Pride e che quindi era un'area in comune tra chi protestava e chi era al Pride è incominciato il momento drammatico perché cosa è accaduto? praticamente il Dunkin' Donuts era diviso in due c'era un'area un pochino più interna dove c'erano appunto la gente che protestava contro il Pride che era quindi against il Pride e dall'altra parte c'erano le persone che erano venute al Pride insomma si incominciano a sentire delle urla urla molto forti, molto cattive una persona che era appunto contro il Pride una aggiumma, come si chiamano le aggiumme in italiano? aggiumma vuol dire signora una signora anziana ha preso a sberle questo povero ragazzino e l'ha ammazzato di insulti questo ragazzino essendo che in Corea non puoi rispondere alle persone anziane insomma probabilmente si è sentito umiliato perché insomma essere picchiato davanti alla gente immagino che sia stato abbastanza un trauma per lui e quindi poverino poi è scappato piangendo questa cosa ovviamente ha scatenato la rabbia di altra gente quindi poi insomma urle catastrofiche cose c'era gente a un certo punto che si tirava l'acqua insulti vari c'è veramente un portello mai visto magari riesco a farvi vedere delle immagini qui c'è una signora che sta ammazzando di insulti un ragazzino che poverino si è messo a piangere e tutti stanno filmando ecco un casino così elevato che a un certo punto arriva la polizia perché giustamente era diventata abbastanza ingestibile ora la cosa che mi ha causato più nervoso è stata la polizia perché la polizia in Corea ha potere ma fino a un certo punto cioè ho visto delle cose che se fossimo stati in Italia in gran cavolus che sarebbero accadute la polizia infatti è arrivata e nonostante fosse chiaro che le persone insomma contro il Pride avessero iniziato questa faida e avessero messo le mani addosso alle persone non sono state in grado di prendere una posizione perché le persone contro il Pride appunto erano molto anziane tant'è che ho visto una scena in cui un vecchio prende ammazzate la polizia e lo ammazza di insulti e gli dice tu poliziotto devi stare dalla nostra parte cioè dalla parte del bene cioè dalle persone che non vogliono gli omosessuali sul pianeta Terra quindi perché non ci stai aiutando brutto pezzo di brutto strrr brutto bam 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 con tanto di bastonate addosso e questo poliziotto porino che non poteva fare niente cioè è io assurdo cioè vi immaginate se in Italia una persona ammazza di insulti un poliziotto lo prende a bastonate cioè vai in prigione immediatamente poi invece si può fare così gli altri anni i cristiani o comunque queste persone contro il Pride riuscivano quasi sempre a fermare la parata perché poi insomma dopo l'evento principale che era fatto in questo parco con i concerti poi a un certo punto partiva anche la parata vera e propria e quasi ogni anno i cristiani riuscivano a bloccarla cioè a buttarsi dentro e a bloccarla lì quest'anno ho visto perché io non ho visto effettivamente quei miei occhi perché ero abbastanza dietro nella parata ma poi ho controllato le news e ho visto che la polizia questa volta è riuscita a prendere proprio prendere i cristiani e insomma quelle persone lì ragazzi non so come chiamarli e buttarli fuori quindi quest'anno pare che sia andato un pochino meglio come ho detto sono andato a controllare le news e ho visto alcune foto allora prima di tutto vorrei analizzare con voi le foto più importanti tra cui questa ragazzi che è un po' off topic ma cioè se mi conoscete sapete che non potevo non farvela vedere cioè sailor moon sempre onniprosente onniprosente onnipresente e insomma è giusto anche così insomma mi vergogno un po' io di non essere stato io a essermi vestito così ma magari l'anno prossimo poi c'è questa scena di questo cristiano che magari voleva fare insomma quello che fermava la parata ma questa foto io non è che voglio essere malizioso però sembra che stia facendo qualcos'altro di tutt'altro che anti gay insomma poi c'è questa foto di appunto la polizia che cerca di buttare fuori questi cristiani che si sono buttati per terra per fermare la parata diciamo che non c'è molto da dire insomma anno dopo anno il pride sta leggermente migliorando e io spero con tutto il mio cuore prima di tutto di farmi una frangia decente magari un giorno e in secondo luogo di riuscire a vedere un pride con meno persone contro possibile mi dispiato cioè è una cosa che io non capisco cioè io non pretendo che tutte le persone siano d'accordo con insomma le unioni civili tu puoi essere stato cresciuto in un modo che ti ha fatto che ne so non piacere gli omosessuali e che ci puoi fare nel senso se uno cresce così è difficile farle cambiare idea però da quello dal tuo pensiero singolo a arrivare a rovinare un'altra manifestazione quello mi dispiace ma non lo accetto perché cosa vuol dire io non sono buddista ma non è che se fanno una manifestazione buddista in cui festeggiano io vado lì e gli butto la benzina e gli do fuoco perché io non credo in buddha che cacchio vuol dire se le persone sono lì e non fanno male a nessuno e vogliono festeggiare mi dispiace puoi credere a quella cosa o no ma non devi andare lì a rompere le bolse questo mi fa sempre incavolare abbastanza tanto però a parte ciò devo dire che insomma reso conto positivo per quanto possa essere positivo perché appunto ho visto più gente rispetto agli anni scorsi e non lo so in generale diciamo che vedo che stiamo andando verso un mondo abbastanza migliore non so quanti anni ci vorranno sicuramente ancora tanti ma diciamo che sono positivo potete seguirmi su instagram e facebook per offrirmi un caffè c'è link di coffee qua sotto in descrizione noi ci vediamo nel prossimo video pizza carbonara e peace and love ragazzi peace and love allora non c'è bisogno che vi piacciono tutti nel mondo nessuno ve lo chiede ma non andate a rompere gli bolsi cioè se c'è una cosa che non vi piace tenetevela per voce nessuno vi chiede la vostra opinione e allora tenetela non c'è bisogno che rompete le palle agli altri grazie ciao